Allora, prima di iniziare vi voglio dire una cosa Siamo, quando dico siamo, compresa anche questa donna straordinaria che il Signore mi ha messo accanto O forse io sono l'uomo che il Signore gli ha messo accanto, cioè perché poi è sempre così Ha trovato, lei ha il marito convenevole, cioè l'Evo, io sono Evo Capito? No, ok Evo e venevo Evo, l'olio buono, l'olio Evo L'olio dell'unzione Che figura ci facciamo con i fratelli sloveni? Cacciaroni italiani E questo è lo Spirito Santo, abituate perché non ce l'è così Allora, meravigliosi figli, io ne approfitto in primo luogo per salutare parte della nostra famiglia che è qui nella zona del Veneto, Bassano del Grappa I nostri mentori che sono cacchi e viceridi e tutto Una parte della nostra missione, Missione Paradiso qui in Veneto Sono arrivati, sono dietro Ci hanno raggiunto, ma non tutti, ma anche perché sapevamo che era tutto saurito Saurito si dice così E anche perché lui ha dovuto raccomandarsi per essere qua, io ho dato il numero del pastore Cioè se no tu puoi chiamare perché era tutto Ditola chi è che praticamente aveva detto che c'era, poi non c'era e quelli che ci volevano essere non sono potuti venire perché quelli che dovevano esserci non ci sono Ora traducendo il sloveno sto scioglilingua Allora io, siccome questa diciamo è l'ultima scena E uno di voi mi accompagnare all'aeroporto Ci accompagna, no ci tradirà, già è finita sta cosa Quindi carità, carità, troppi ce n'è E voglio iniziare veramente O ne ho posto a Ramaurizio? Longo, longo Dice ma quando è longo? Intanto salutando, cioè per l'ennesima volta ringraziandoli Perché credo che questo sacrificio sta portando i suoi frutti E' vero o no figli? Per tantissimi motivi E li vedrete anche dopo Perché lui è in grado di andare come sempre al di là di quello che immaginiamo o pensiamo E questa è la garanzia, meno male E poi vorrei abbracciare, se mi consentite, come padrone di casa Che siete stati straordinariamente accoglienti Come già sapevo, perché io lo sapevo nel mio spirito Tutti questi servitori meravigliosi Tutti questi servitori Siete Io vi ho conosciuto a Piancavallo Nel ritiro a Piancavallo Pure a te, pure a te A tanti di voi E sono felice di rivedervi a distanza di un anno Perché già è un miracolo Senza pollo Senza pollo Senza pollo In un altro ritiro senza Wustel Il ritiro con l'unzione del pollo Meno male che poi c'erano i canederli Così Cioè siamo andati in uno spacciatore di canederli E sono veramente felice Ci sentiamo a casa E onestamente Servire Come spesso capita con il mio amico Io ho pochi amici in questa nazione Sì Uno è qua E poi ovviamente per riflesso Lei è l'amica convenevole dell'amico Dall'aiuto convenevole Di riflesso Perché siamo in diretta Caccio su chiede delle atti Che si stanno stracciando le veste In questo momento E poi hanno ragione Dice che sono chiese libere Sono chiese libere Sono libere Se noi siamo liberi Vuol dire che c'è qualcuno Che è attaccato O no Siamo liberi Quanti siamo liberi Vuol dire che gli altri su Ok Mi hai reso libero E canterò Mi hai reso libero Col tuo grande amore Mi hai reso libero E oggi griderò Che sono libero Bello Siamo al posto giusto Ricordatevi dei lunedì Di Missione Paradiso Allora salutiamo anche Chi ci sta seguendo in diretta In questo momento Indipendentemente Da chi già si è Praticamente Cambiato tre volte Perché si è sciazzato tutto A Catania si dice Mi scico tutto Perché credo che Che noi Onestamente Non stiamo andando via contenti Ma sappiamo Che domani Abbiamo una giornata Bella lunga Anche perché Arriviamo in nottata L'aereo è alle 11 di sera Quindi provate a immaginare Come dicevo Toto Abbiamo attraversato L'Alto Adige Per venire Però Ora poi riprenderemo Con i giovedì Quanti siamo stati benedetti In questi giovedì Di istruzione dal cielo E' vero o no C'è un dono Che il Signore ci ha dato E' quello che Noi riceviamo Noi diamo Con un tutto Quello che si può fare Gratuitamente riceviamo E gratuitamente diamo E Speriamo che Siete così contenti Alla fine del messaggio Perché chi mi conosce Cioè Io Noi godiamo tutti Ad ascoltare La Diciamo La magnificenza Della rivelazione Che lo Spirito Santo Dà A un suo figlio Nostro fratello Che in questo momento Faccio la parte dello zio qua Perché se avete un papà Io sono zio Onestamente Io Godo Ad ascoltare La profondità Della parola di Dio Che poi è semplice E' vero o no? Bene E questo è tutto merito Dallo Spirito Santo E Quanti abbiamo ricevuto? 4 o 5 Il resto dice no Aspetta Allora Ci è stato dato Sì o no? E a chi più è dato? Sapete che è sempre Siamo sempre lì Se abbiamo ricevuto tanto E' perché Dobbiamo dare tanto Poco fa Mia moglie Diceva No no Facciamo una preghiera Quanti siamo stati benedetti Di questa parola A proposito del tempo figlio A proposito del tempo Del tempo A me piace molto Ricordare a me stesso E anche a Diciamo a coloro Che il Signore Ha messo sul mio cammino A proposito del tempo E Mia moglie ha detto Non preghiamo Impariamo a cambiare Anche Il modo che a volte Noi abbiamo Signore fa Signore fa No? E allora poco fa L'apostolino scherzava Diceva invece di usare il fa Usiamo il do Do Fa do Però do Da do In inglese Cioè significa fare Cioè facciamo noi Cambiamo il fa Con il do Ed è vero Perché Tutto quello che è stato detto Anche da Mia moglie prima Non serve per guadagnarci qualcosa Ma serve per centrare il nostro destino Cioè Non è che Noi siamo valutati In una specie di gara a punti No 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 Penso che fra ieri e oggi Vabbè Ma non credo che ci sia stato qualcosa di nuovo 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 Che abbiamo ascoltato Perché sappiamo perfettamente Poi ieri quando Si è parlato della Dorean Che Oggi Ne ci dirò un pezzettino anch'io A proposito Del pacchetto dono Che lo Spirito Santo ci fa In realtà Tutto questo è un privilegio Che ci viene offerto Vedete Di quale amore C'è stato largo Il padre Facendo in modo Che noi potessimo Definirci E chiamarci Figli di Dio Cioè questo Se ancora non l'abbiamo realizzato Rischiamo Di essere forse Dei figli Che vivono da credenti E' differente Essere Credente E figlio Allora il figlio è sicuro Che è differente Che è credente Però è differente Essere solo credente Essere credente Non ne equivale Significa uno che sa le cose Non che vive quelle cose Che sa Le conosce Così E E siccome io mi voglio attenere Assolutamente al tema Perché anche ieri Quando io ho iniziato Abbiamo un po' gettato Le basi Perché credo che Quando poi ci siamo ritrovati Qui Sotto la vera unzione Dello Spirito Santo Che per coloro che avevano fame E coloro che avevano sede Per coloro che volevano bussare Affinché fosse aperto Abbiamo ricevuto Quello che noi Desideravamo C'è un tocco Come in Atti 4 Abbiamo visto che ci sono Diversi battesimi Che tu ricevi Dallo Spirito Santo Cioè Diversi Come dire Rabbocchi Di un contenitore Che come è scritto Spesso E Pieno Purtroppo Di crepe Noi siamo cisterne Screpolate Dice la scrittura Quindi significa Che abbiamo Non una tenuta stagna Ma molto spesso Invece Durante il nostro cammino Perché questo Gesù Ha lavato i piedi Perché il resto È già A posto Non abbiamo bisogno Di lavarci Ma i piedi Vanno a contatto Con un sistema umano Che continua ancora A esporci A delle contaminazioni Per cui noi possiamo Perdere anche La concentrazione E anche Rattristare lo Spirito Come vi ho detto ieri E lo Spirito Santo Si muove nell'ordine Lo Spirito Santo Non può muoversi Nel disordine Anzi La presenza Dello Spirito Santo Rimuove Il disordine E il ritorno All'ordine Che non è Una questione Diciamo Di precisione militare L'ordine Definito No no È qualcosa Che ti parla Di un equilibrio È quello shalom A cui facevamo riferimento E Mi riferisco a che cosa Senza lo Spirito Santo È impossibile Conoscere Gesù Senza lo Spirito Santo Tu Puoi avere un'idea Della storia di Gesù Ma non conosci Non hai intimità Perché lo Spirito Santo A questa funziona Allora lo Spirito Santo Non si offende Se lui Non viene citato Valorizzato Ringraziato Però se c'è una cosa Che diciamo così L'orattrista È quando sottovalutiamo La possibilità Che noi abbiamo Di avere comunione Col figlio Con Gesù Perché Il suo obiettivo grande È che noi possiamo Conoscere Gesù Mi seguite E tu conoscerai Gesù Con la comunione Con lo Spirito Santo Ora Il suo obiettivo E fare in modo Che ognuno di noi Come è stato detto Non possa solo sapere Dell'opera compiuta Ma possa vivere L'opera compiuta E come vi posso spiegare Noi non nasciamo figli di Dio E quindi Per noi C'è un periodo Della nostra esistenza Che è una transizione Quanto più o meno lunga In rapporto Al nostro grado Di resistenza Una prima fase Di demolizione Dei nostri modi Di vivere Di pensare Che ci impediscono Ci impediscono Realmente Di poter dare La libertà Allo Spirito Santo Di ministrarci Dall'interno Perché Noi è come se fossimo In un unico dispositivo E in questo dispositivo C'è ancora carne Oltre che lo Spirito Mi seguite? E ieri Era importante Che ognuno di noi Comprendesse Il valore Del dono Dei doni Che è proprio Lo Spirito Santo Riconquistare Quella natura divina Che noi avevamo Nell'Eden Che abbiamo lasciato Che è L'opera Dello Spirito Santo E fare in modo Che ognuno di noi Possa avere restituito Come scritto In 2 Corinti 5 17 La nuova creazione Che è la creazione Prima dell'Adamo Caduto Mi seguite? E Il suo obiettivo È scritto Giovanni 14 26 Quando dice Ma il Consolatore Lo Spirito Santo Che il Padre Manderà nel mio nome Vi insegnerà Ogni cosa E vi ricorderà Tutto quello Che vi ho detto Ora quando Noi sappiamo Che Gesù Come è stato chiamato Qual era il suo nome? E fu anche profetizzato In Isaia Emmanuel Significa? Dio con noi Ebbene Emmanuel Gesù è stato Dio con noi Per questo lui disse Io pregherò Versetto 16 Il Padre Degli vi darà Un altro Consolatore Perché stia con voi Per sempre Oggi è stato ricordato Quindi Emmanuel È stato Dio con noi Lo Spirito Santo È Dio in noi Mi seguite? Ora Qui si gioca la differenza Qui è la differenza È quello che a volte Viene sottovalato Non si può concepire Di definirsi figlio di Dio E non immaginare neanche Come è stato ricordato Anche dall'Apostolo Lirio Come Filippo Che manco si sa Che c'era lo Spirito Santo E ieri l'abbiamo ricordato Lo Spirito Santo Non è una forza esecutiva Di Dio Ma in realtà È Dio stesso con noi È Dio Lo Spirito Santo È quella persona Con cui avere comunione Che produce potenza Ma non è una potenza Una energia Mi seguite? Quindi Quando noi abbiamo La possibilità di avere Lo Spirito Santo Dentro di noi Sto facendo un attimino Un riepilogo Più o meno Di quello che ci siamo detto Significa che è la continuazione Della presenza di Dio Lo Spirito Santo È la continuazione Della presenza di Dio Ripeto In noi Non solo con noi In noi Per questo Noi rendiamo visibile Attraverso la nostra vita La presenza di Dio Noi siamo i portatori Della presenza di Dio Quindi La Chiesa Deve avere Ed esercitare L'evidenza Che lo Spirito Santo È presente Se no è solo E non ho manco il tempo Di potervelo dimostrare Una Chiesa Perché Se noi Fatto 100 Il massimo Noi Di nostro Forse In termini intellettivi Di conoscenza Possiamo metterci il 5% Il 95% È lo Spirito Santo Gesù disse Senza di me Non potete fare nulla Ma non per dire Perché io sono No 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 È un fatto Ed è Assolutamente così E quindi non si può Condurre una Chiesa Solo col 5% Per questo Ci fu un periodo Che noi abbiamo Praticato Dicendo Restituiamo Le nostre Chiese Allo Spirito Santo Che non è così Scontato Quindi Il versetto 26 Sempre del capitolo 16 Dice Ma il Consolatore Lo Spirito Santo Che il Padre Manderà nel mio nome Vi insegnerà Ogni cosa Ogni E vi ricorderà Tutto quello Che vi ho detto In poche parole Lo Spirito Santo È il ponte Fra il cielo E la terra Il pontefice È lui No Che do Papalina No Capite Ok Bene Su questo Amen Non c'è dubbio Siamo tutti contenti Veniamo a noi Adesso Perché Quando noi Adesso abbiamo compreso E ieri l'abbiamo ricordato E lo vedremo ancora Che c'è una storia Che Continua E la storia che continua È quella di Gesù Seguimi Figlio di Dio L'unigenito che diventa Primo genito Primo genito Si Ripeto Si Si presume che ci siano altri figli Quando lui dice Padre nostro Significa Lui avrebbe potuto dire In esclusiva Padre mio Ma quale padre vostro Padre mio Punto Invece lui Grazie al suo amore All'amore del padre E alla sua grazia E alla comunione Con lo spirito santo Lui ci ha messo a disposizione La sua paternità Per questo Non si vergogna Di chiamarci Fratelli Lui Gesù Fratelli Padre ovvio Tutto questo Si Traduce In poche parole Che se Vi ricordate la proprietà transitiva A scuola Se A è uguale a B E B è uguale a C A è uguale a C A è Dio padre B è Gesù C siamo noi Se Gesù Ha detto Chi ha visto me Ha visto il padre Adesso Chi vede noi Vede Cristo E Se vede Cristo Chi vede noi Vede il padre Perché Se A è uguale a B E B è uguale a C C è uguale ad A Ci siete? Alla fine La nostra tre unità È composta Anche dai figli Che lui ha sulla terra Che per mezzo Dello spirito santo Noi abbiamo Piena comunione con lui Ok Mi piace Sta cosa ci piace Siamo contenti di questa cosa qua Ma come si traduce adesso in azione? Dice ma perché non ti potevi fermare qua e basta? E allora non l'hai capito Atti 10 38 Qui Viene raccontata Dall'apostolo Pietro La storia Atti 10 Cornelio E tutto il resto Dice vale a dire La storia di Gesù di Nazareth Seguitemi Come Dio Lo ha unto di spirito santo e di potenza E come Egli è andato dappertutto Facendo del bene E guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo Perché Dio era con lui Chi ha unto il figlio? Il padre No? Questo è il mio diletto figliolo Nel quale mi sono compiaciuto Oggi è stato detto che Solo il padre in quel momento si è sentito E poi è ovvio che non era una colomba che è scesa Era una forma Qualcuno che lo ha visto Ha detto sembrava come una colomba di luce No? Però quello che conta È che tutto quello che ha fatto Gesù Seguitemi bene perché è importante Perché se no noi idealizziamo Gesù Che va bene Però lo vediamo così distante Quando tutto quello che Gesù ha fatto Lo ha fatto nella posizione della sua umanità totale È stato così Dio Che è stato l'unico capace di essere uomo al 100% Senza barare Mi seguite? Cioè lui ha deciso È come quando tu hai l'acqua calda e l'acqua fredda E tu decidi che l'acqua calda non l'aprirai mai Apri solo l'acqua fredda È una sua decisione Lui pur essendo Dio è stato uomo al 100% Proprio per poter rendere accessibile Quello che lui ha fatto Per mezzo dello Spirito Santo Alla stessa maniera come lo possiamo fare noi Mi seguite o no? Quindi noi non abbiamo scuse Ora entriamo un po' meglio in questo Perché se noi ce ne vogliamo andare da qui Solo con delle belle sensazioni O con un po' di conoscenze in più Data dalle perle che il Signore ci ha fatto giungere Ricordati Che più abbiamo ricevuto Più dovremmo essere coscienti di come noi dovremmo dare Perché abbiamo ricevuto E questo meccanismo non è un optional Cioè questa è l'essenza stessa Del nostro procedere adesso Come scritto in Cristo Siamo una nuova creatura Le cose di primo sono passate Ecco tutto diventa nuovo Ma diventa nuovo che significa? Quando noi leggiamo in 2 Corinthians 5.17 Quanti di noi effettivamente Stiamo valutando la nostra vita Differente rispetto a prima Quanti di noi Cioè si sentono In questo momento liberati Dall'appeso di un'esistenza inutile Terrena Che si conclude con la morte Che abbiamo ereditato dal primo Adamo E adesso dall'ultimo Adamo E l'ultimo Adamo è straordinario Perché il primo Adamo ha fatto un Un caos per dirla proprio L'ultimo Adamo ha rimesso in ordine Quel disordine assoluto planetario Ora il punto è Tu come ti vivi proiettato in questa dimensione? Come un handicappato? Perché io a certe volte vedo dei giovani cristiani Che è come se Quasi quasi Non so Come alla Asaf Io credo che alcuni di voi Credete in Gesù Ma non avete avuto ancora una relazione con lui autentica Che non è Non è che deve accadere qualcosa Che dovete cadere Di ingavallo Non lo so Dovete inventarmi qualcosa di mistico No figli È il desiderio del vostro cuore Perché il problema dell'unzione È che come viene data Può essere anche tolta E a che ti serve l'unzione? Qui vediamo Che l'unzione ha sempre uno scopo Per cui viene data Non sapete che la parola unzione Dal greco Significa proprio È un classico Diciamo Come in Isaia 61 Che ora vi leggerò in parte Era veramente un'investitura Era realmente Fisicamente Si traduceva con un olio fisico Che veniva versato Sulla testa di colui Che veniva incaricato Di esercitare una delega Che era sopra di lui Significa Che quando noi In Isaia 61 1 c'è scritto Lo spirito del Signore Ora se noi abbiamo parlato di Pneuma Indipendentemente dal Dal termine Il soffio E tutto il resto Io non posso immaginare Che io non mi faccio i conti Con questa parola E capire se io questa unzione Ce l'ho e ora che mi serve Perché se no Siamo Siamo dei passivi Uditori Che non hanno La comprensione Del privilegio Ergo Responsabilità Che ognuno di noi ha Ognuno Nessuno Escluso Soprattutto se dalla tua bocca È uscito un amen Che significa No non è che dice Ora mi stai muto Non lo dico più E cambia la sostanza No non cambia Lo spirito del Signore Di Dio è su di me Io Sono due giorni Che vedo via vai Di persone che O hanno Desiderato avere Più unzione O alcuni che hanno Voluto l'unzione O alcuni che l'hanno Insomma C'è stato Cioè è stato un incontro Con lo spirito santo Che stiamo avendo E quindi se lo spirito Mi ha unto Perché? Per farmi parlare in lingua E così me ne vai Come una specie di Non lo so Foro 118 Che lo chiama Qualcuno Vado a un negozio Per cortesia Alleluia Gloria a Dio Un chilo di puma A pizza A pizza Che carciofili Alleluia Alleluia Lo spirito santo Mi ha unto Non per farmi fare Lo spirito aloide Ma perché Ha introdotto Dentro di me La prima cosa che fa E te lo ripeto Ancora Quest'unzione Quello che produce Dentro di me È l'esigenza Di dare Una buona notizia Agli umili Abbiamo parlato Di buone notizie Figli Si è scolato Sul discorso Delle buone notizie Del Vangelo Ieri Vi ricordate Qual è La buona notizia Il lascito Il lascito Significa che Non ci sono più Debuti Ci sono Sulle Ed esclusivamente Crediti Da esigere Io Non lo so voi Ma il senso Di frustrazione Che mi Cioè In parte Mia moglie Ve lo ha un po' Manifestato Ma io Ve lo voglio Manifestare Tutto Se in questo momento Gesù qui Per chi pensate Che Gesù qui Non c'è No no So che c'è Gesù C'è lo Spirito Santo Benissimo E se oggi Ti sta dicendo Se oggi Oggi In questo istante Preciso Io mi siedo qua E comincio A guardare Vi ricordate Come lui faceva Quando scriveva Per terra Quando guardava La cassetta Delle offerte E alcune cose Come a casa Di Simone Quando praticamente Lui faceva Tutto il perfettino Dopo che Dallebroso Era stato Guarito da Gesù Però era ancora Un farisetto Dentro di sé Si scandalizzò Perché quella donna Poco di buono Gli aveva versato Trecento di denari Di Come lui Pure Giuda E se Gesù Fosse qua In questo momento Cominciasse a dire Ma non col dito Così Con il dito a scatto Lo sai Con il dito apostolico No No proprio Per dire Ok Oggi è finita Ci facciamo due conti signora Sei salvato Assolutamente sì Per grazie Non c'è ombra di dubbio Benissimo Questo era il tuo destino E qualcuno Già sta scomparendo Dice aspetta Posso andare in bagno Professore Siamo mi chiedendo Io ti avevo assegnato Cioè Ma raga A parabola dei talenti Secondo voi Che idee avete Significa che Ognuno di noi Ha un Ne ho parlato A piancavallo Più o meno Ci è stato ritagliato Su misura Un destino Né più E né meno Nella misura In cui noi Il suo carico L'avremmo comunque Potuto portare Come leggero No signor Ci sono tante parabole Quelle parabole Che lui parla E la transizione Fra il nuovo Perché poi Nel nuovo testamento Nell'epistola C'è la rivelazione Della sostanza Di cui Lui dice Ma Ma se avete sperato In Cristo Non lo so Per che cosa O per la domenica O solo Per arrivare al cielo Salvate come dice In 1 Corinthians 3 Come di mezzo al fuoco Ma non è miserabile Lo Spirito Santo Mi ha unto Per regare Una buona notizia Agli umili La prima cosa Che fa lo Spirito Santo Dentro di me E' quello che ha fatto Nella Samaritana La Samaritana Quando ha risolto Il suo problema Che era un problema Di inquietudine Che lei cercava Di sistemare Un poco Con la sua Voglia Di 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 apparire Di attirare L'attenzione Di avere L'amore Concedendosi Non lo so Che faceva Sta signorina Signorina In modo di dire Però come appena Lui ha risolto Il problema E' andata Immediatamente Nel villaggio L'indemoniato Di che era Praticamente Che aveva un film L'esorcista Faceva ridere A confronto di lui Che stava Nudo con le catene Nei cimiteri E cosa La prima cosa Che ha fatto E' stata Nella De Capodi A parlare di Gesù Ma chi sapeva Aveva fatto scuole bibliche Cosa aveva fatto Vai e racconta Le meraviglie Che Dio ha fatto Nella tua vita Cioè Porta l'amore Con cui sei stato liberato O l'abbiamo Dimenticato E siamo diventati Evangelici Vedi che la gente Della religione evangelica Ascoltatevi Non ha che farsene Perché è già stanca Di chi è cattolica Mi ha unto E mi ha inviato Per fasciare Quelli che hanno Il cuore spezzato Non per spezzare Quelli che hanno Il cuore sano Pace 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 Ma a volte Io vedo Per esempio La stessa canzone Su ci sono Cento chiese Hanno cento traduzioni Diverse E già Molte delle canzoni Che avete cantato Per esempio Noi le abbiamo tradotte In maniera diversa Cioè la sostanza È quella Però mi si inceppa La lingua Quando la canto E dico Non siamo riusciti Neanche a coordinarci Nell'adorare Perché ognuno è Nella sua piccola bottega Ma non c'entra niente O Spirito Santo Ragazzi Cioè io dico Io me ne vado Prenderò un aereo Io non sono venuto A fare tutto il rispetto Io sono venuto A sostenere Questi servi di Dio E voi tutti Perché questo territorio Che ha bisogno Di questa unzione Non ha bisogno Di un'altra chiesa evangelica In più Mi seguite una nuova figlia Mi ha inviato Per fasciare Quelli che hanno Il cuore spezzato Per proclamare La libertà Quelli che sono schiavi Ma quando leggete Queste cose Ma che acqua fresca Significa Che ci sono schiavi Da liberare Durante la tua settimana Quante schiavi hai liberato? Ma no Ma io sai A Udine Si lavora Perché poi tu Sei nato Nella provincia Di Catania E parli udinese Ma parlo come mangi No scherzi a parte Cioè durante la tua giornata Io non c'è problema Dobbiamo lavorare Assolutamente sì Chi non lavora Non mangia Che lui era Cialandano Era un'altra cosa Ok Però Se io Lavoro La mia priorità È sapere Chi sono adesso In Cristo Se ho ricevuto Quest'unzione Perché Qui ragazzi Vi siete assunti Delle responsabilità Chi ha parlato In lingue Per la prima volta Chi ha ricevuto Il batte Chi ha ricevuto Guarigione E tante altre cose E ora E ora che si fa Come arrestiamo Segui Che si fa Qua è Qua è La sostanza è questa Abbiamo ricevuto L'unzione Abbiamo Dentro di te Non scatto Un meccanismo Di urgenza Cioè dico Non mi ricordo Se eravamo A Monte Catini Perché su tutti noi Mi devo rilassare Mi piglio due settimane Di ferie Mi devo rilassare Hai diritto A rilassare Assolutamente sì Ma In Ecclesiaste C'è scritto In tempo di guerra Non c'è concedo Ma vi siete guardati attorno Cioè avete mai visto Un vigile del fuoco L'anno scorso Ho fatto vedere Un'immagine Di un vigile del fuoco In Israele Che si era addormentato Con tutta divisa La bombola Di aria Sulla schiena Perché erano 24 ore Che non prendeva Il riposo Perché c'era Un incendio In corso Mi state seguendo C'è Non è che dici Sai che c'è Sono otto ore Alleluia Gloria a Dio Io mi vado a fare Se c'è un incendio In corso Io Me ne vado a casa Dopo che ho fatto Di tutto Per spegnere Quell'incendio Mi seguito no figlio Ora Gesù Come è stato ricordato Per l'ennesima volta Se non poteva stare Perché ora Io vi dirò In poco tempo Visto che ancora Mi sono fermato Solo nella prima parte Cioè Come Gesù Cercava di mantenere Attiva Quella unzione Perché ricordati Che Gesù È stato unto Come se è stato unto Tu e io Alla stessa identica maniera Non c'è differenza Fra me e Gesù Seguimi In termini di Diritti O in termini di Concessioni O in termini di Grazia O in termini di Unzione Il problema grande È quanto sei Arreso Perché Gesù Aveva la pienezza Dello spirito Perché era pienamente Arreso Ricordati che Gesù da uomo Ha avuto L'unzione Come l'abbiamo noi C'è stato unto C'è stato incaricato Perché lui E l'agnello Ieri in maniera completa È stato detto Lui ha dovuto passare Realmente la sofferenza Affinché fosse completo Anche nella sofferenza Come uomo Per poter essere Completo Nella sua Totale onnipotenza Anche nel passaggio Dell'umanità Dall'umanità stessa Gesù Da uomo Ha mantenuto La sua unzione Con l'obbedienza Per uno scopo Scrivi Obbedienza E scopo Obbedienza E scopo Ci siete? Quando In Isaia 61 C'è scritto Che io devo portare Una buona notizia Significa In mia assenza Non ci sono buone notizie Se noi Chiudiamo La nostra bocca Il mondo Continuerà a dare Le sue pessime notizie Per cercare Di mantenere Prigionieri Che dico su Prigionieri Da queste No? Brutte notizie Date voi Da mangiare Disse Gesù Che non è un fatto Alimentare Solamente E dice In Isaia 61 La stessa cosa Poi lui La ripete Lui stesso Di se stesso A Nazareth In Luca 4 Dice che Noi dovremmo Proclamare L'anno di grazia Del Signore Il giorno Di vendetta Del nostro Per consolare Tutti quelli Che sono afflitti Quando è stata L'ultima volta Che tu hai consolato Uno che era afflitto E perché? Il problema Che a volte Siamo afflitti noi Nonostante Che abbiamo La penesia Sai Quando in Due corinzi Uno c'è scritto Che noi consoliamo Perché siamo stati Consolati E possiamo consolare Quelli che hanno Bisogno di consolazione Il problema È che a volte Noi Siamo capricciosamente Inconsolabili Noi a volte Siamo come Giona Che non gliene importava Il cosiddetto Non so come si dice In Slovenia Fico secco Il classico Fico secco A Giona Non gliene importava Proprio Niente Di centinaia Di migliaia Di niniviti Vi ricordate? Però quando Poi Quel Alberello Che gli faceva ombra Gli è seccato Lui si è E seccato Perché gli era seccato Quello che gli era seccato Perché lui era seccato E voleva pure morire Quando è stato L'ultima volta Ripeto Che noi abbiamo messo Da parte I nostri capricci Per cercare Di consolare Gli afflitti No ma ci penso Pastore Non ti preoccupare C'è Pastore Pastore Consola gli afflitti Ma manco Li conosce tutti Sapete che loro Per esempio Hanno il compito Di equipaggiarci Equipaggiarvi Affinché voi possiate Andare Ripeto Portare buone notizie Consolare gli afflitti Aprire Le prigioni A quelli che sono schiavi Ridare E mettere E dare Agli afflitti Un diadema Invece di cenere Il dorean Di cui si parlava In realtà È togliere Le catene O togliere Il tatuaggio Che aveva qualcuno Quando veniva mandato Nei campi di concentramento Per dargli un anello Di identità Sapete che significa Figli Che noi abbiamo Questo E un giorno Risponderemo Di questo Non è che risponderemo Di quanta Bibbia Sappiamo a memoria O di quanti frequentazioni Di culti Chiamiamole così O di quanti Per scherzare Pesci abbiamo Messe come adesivi Nella macchina O quanti Cioè noi non risponderemo Di tutte queste cose Risponderemo Di cosa Abbiamo fatto Della sua unzione Noi risponderemo Che hai fatto Che non è manco nostra Perché l'unzione Si caratterizza Per essere stata data Come è stata data A Gesù Gesù quando nel capitolo 17 di Giovanni Fa il resoconto Di se stesso Quello che io dovevo fare L'ho fatto papà Non ne ho perso Manco uno Tranne chi si è voluto Perdere Vi ricordate o no? Perché lui Ci teneva Tanto Perché lui Sapeva Che non poteva fallire Quell'occasione E perché noi Invece Possiamo invece Sottovalutare Quello che lui Ha distribuito Graduitamente Su ciascuno di noi Scrivi La mia unzione È a rischio Scrivilo Perché se Poco fa Mia moglie Ha fatto un po' Più o meno Un elenco Di alcune cose Che possono capitare Stanno capitando E poco fa Ne parlavo con lei Anche con l'apostolino Spesso ne parliamo Ma Cioè Raga ma Sti due anni Sono passati in vano Davvero Ui le prime parole Che noi abbiamo detto Non tornerà più Quella normalità Vi ricordate L'istruzione dal cielo E tante altre cose E abbiamo detto Che questi due anni Sono stato Una scossa globale E quando le cose Succedono A livello planetario Significa che C'è il controllo Totale Sulla vicenda Da parte di Dio C'è l'impronta Dell'eterno C'è un tempo divino Profetico Che è fondamentale Discerne Il Kairos Sta incontrando Il Kronos Nostro Prima o poi Succede A qualche generazione E siamo noi O no Ma questo dovrebbe Per certi versi Farci anche Sì Stare Abbastanza In campana Come si dice Però anche Essere felici Perché noi Se siamo stati scelti Per questo tempo Vuol dire che il Signore Qualcosa Perché siamo noi Che siamo stati scelti Da Lui Non noi che abbiamo Scelto Lui La carriera La scegli tu E ognuno di noi Ha fatto delle scelte In termini di carriera Ma il ministerio Sceglie te Tu scegli la carriera Ma non scegli il ministerio E il ministerio Che sceglie te Perché la parola Ministerio Significa servire E il padre Guarda È di una delicatezza È di una bontà Lo Spirito Santo Che veramente Perché poi alla fine Molto spesso Sai cosa ci sfugge? Il fatto che lui Non ci sta usando Ci sta onorando No 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 Non l'avete capito Lui ci sta Onorando Coinvolgendoci Nella sua opera Lui non mi sta usando Ma per dire Ah ma ti pare giusto Che no Non ti preoccupare Tieni di tutto Non dare niente Se tu non discerni Che non c'è In un'esistenza Unica Non so manco Di quanti giorni È fatta la tua Come non so Di quanti è fatta La mia Se l'unica cosa Per cui vale la pena Vivere È solo Ed esclusivamente Per onorare lui Ma non onorarlo Nel senso Fargli un favore No L'unzione La prima cosa Che fa scattare Dentro di me È la comprensione Di ciò che ha valore Rispetto a quello Che prima aveva valore Per me Io reputo Che ogni cosa Sia come Scubalon In greco Sapete Significa Cacca di cane Io ho una laurea 110 E l'ode In cacca di cane Cioè lui Lui era Io Pure io Sono lavoriato Con 110 All'ode Cacca di cane Pure io Sì Le cose Che prima Io reputavo Per cui proprio Non mi sono manco Sposato per fare Un rabbino Diceva l'apostolo Ero Beniamenita Io e mio papà Ci siamo comprati Pure la cittadinanza romana Avevamo doppio passaporto Tutte cose Cos'è Perché lui Nel momento In cui ha incontrato Gesù Come ti posso dire Ha proprio ridimensionato Tutto Quello che poteva E dico Noi come è possibile Che di fronte A delle valutazioni Fatte in anticipo Noi in maniera geniale Non potremmo aggiustare Le nostre priorità E le nostre Cioè Da noi si dice Uno c'ha leva La salute Uno c'ha metta Cioè Dosare i pesi Le misure Dando valore Alle cose che hanno Veramente valore La classica La classica Parte Che non ci sarà mai tolta Ci siete o no Primo Giovanni 2 Versetto 20 Dice Ma voi avete L'unzione Dal santo E conoscete Ogni cosa Avete l'unzione Efesini 4 7 Ed eccola qui La parola Ma ciascuno di noi È stata data La grazia Secondo la misura Del dono Dorean Di Cristo Significa Che noi abbiamo Già ricevuto E come Non c'è Un figlio di Dio Un cristiano Nato di nuovo Che non abbia ricevuto L'unzione Proporzionata A quella Che è Ripeto Dimensionata Per non farci Schiacciare Da quell'unzione Il carico Che non solo Ma che ti darà La forza È come quando Da piccolini Mio papà Che io lo volevo aiutare Papà ti voglio aiutare Papà ti voglio aiutare Papà ti voglio aiutare Lui mi dava Una cosetta Mi dava una piccola Al massimo Un chiodo E una volta Quando ho voluto Strafare Mi sono dato Una martellata Nell'occhio Io da questo occhio Quasi non ci vedo Perché? Perché mi sono Oppreso Di nascosto Di papà Un peso Un carico Un'attività Che non potevo fare A 11 anni E lui Mi stava Da quel momento in poi Io manco la lambatina A Vito ormai Infatti fa tutto lei Perché ora così Come si gira Stavite Così o così? Perché mio papà Poi mi tolse tutto Come per dire tutto 40 giorni di ospedale L'ho fatto Stavo perdendo l'occhio A ciascuno di noi È stata data Secondo la misura Del dono È un dono Capite che un dono Non è una cuccia Non è un peso Non è una cadena Ah Ah signore E che devo fare Devo andare in chiesa E quante attività Si fanno Oh no Sei lunedì Ma ti dico Io mi devo rilassare Io mi devo rilassare Io mi rilasso Se sto alla sua presenza Io non so voi Ma perché siamo così diversi Non lo so No no Io devo fare No E poi esagerato No Tutta sta bibbia Sta bibbia 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 Re bibbia In galera Devi finire Manca aranje Ti buttassi Oh Ci siete o no figli Cioè io Cosa vi posso Cioè io Quello che vi posso dare Quello che ho ricevuto Cioè io Vi devo dare La soluzione Della vostra Dovete centrare Il vostro bersaglio Che è uguale al mio Proporzionato Ognuno Alla propria vita Perché l'unzione Come vedete Produce questo In coloro che ce l'hanno E dovrebbe attivarci In questa direzione L'unzione Lavora così Guardate Senza domanda Senza fame Senza sete Se c'è una domanda C'è un'offerta Oh E' scritto Se io non ho fame E qualcuno mi dà da mangiare Io rifiuto Quello che mi viene offerto Se io ho fame Mangio di tutto Per questo Gesù disse Bussatevi Sarà aperto Significa Abbiate l'attitudine Di quelli che desiderano Avere quella cosa Che stanno chiedendo Ora il nemico numero uno C'era quel trasporto In proprio un po' Dell'arca Perché Uzza Aveva preso confidenza Per lui era una cassa Dopo trent'anni C'era nato A casa di suo padre Con quella Non aveva idea Del valore Che aveva la presenza Di Dio In quella casa Che poi Si è una corsa E' bene Quando si aspetta Di che non si muove In altri mesi Mi ha cambiato tutto Ve l'ho ricordato o no? Tu non puoi familiarizzare Non puoi diventare Un'abitudine Non può L'unzione diventare Una routine Si spegne Perché diventa Un meccanismo Pseudo religioso Rutinario Non è una cosa Che tu alimenti Con il desiderio Vi ricordate Quando Quella donna Quando Toccò il mando Di Gesù Sentì l'unzione Anche se Cioè quando c'è Dentro di te L'unzione Io Sarò Praticamente Come Un Un mezzo Di trasporto Di qualcosa Che nel mondo Non c'è Che si chiama Spirito di Dio Con tutto quello Che ne consegue Ricordati una cosa Che se tu questo Non lo fai Come nel mondo Quando tu Purtroppo abbiamo visto In queste Due giorni Che c'è stato Un incidente Che ha coinvolto Persone care A noi tutti Anche se sono Persone più care a lui E questa persona E scappata Ha buttato giù Con la moto Sto ragazzo Che correva Facendo Jodging Credo Non lo so Sì esatto Correva Lo ha buttato giù Ed è scappato Si chiama È un reato Si chiama Omissione Di soccorso Dite Omissione Di soccorso La stessa cosa Succede a noi Quando ogni giorno Vediamo delle persone Che sono prigionieri Di pensieri Situazioni Di azione Diabolica Ricordati che L'unzione è completa Non è solo Preregare O insegnare E buttare In chiesa È sul posto Intervenire Sul posto Quando Gesù Li mandò Non gli disse Ok facciamo una cosa O a Capernaum A casa Ci vediamo Tutti a casa Di mia suocera Anche a chi Suocera Con tutto rispetto Anche che Prima di tutto Era la suocera Di Pietro E probabilmente Pietro disse Sai che c'è Carità Tu l'hai voluto A guarire Io l'avevo pregato Forse Comunque Ancora non era nato Di nuovo Ci può stare Ma Gesù Come vedete L'unzione L'ha data anche Di guarigionare la suocera Però Gesù diceva Andate dappertutto Dappertutto Se noi ci dobbiamo vedere Assolutamente Sì Dobbiamo stare insieme Ma affinché siamo inviati Dappertutto Sì o no? Sennò Un rischio è cristallizzarsi E quest'unzione Diventa qualcosa Di stagnante Piuttosto che un fiume Di acqua viva E quando qualcosa Stagna Da noi si dice Fete Puzza E quando Gesù disse O quando L'apostolo Paolo Disse che noi siamo Il profumo di Cristo Non la puzza Della religiosità Guardate che rischio C'è se noi Ripeto Non abbiamo Un aspettativo Un interesse Per fare Funzionare L'unzione Che ci è stata data Come funziona L'unzione Ora vi darò Solo tre cose E poi Chiudiamo Giovanni 3.30 Bisogna Che lui Cresca E che io Diminuisca Ragazzi Non si può servire Due padroni Non si può servire Due signori Uno di questi due signori Si deve inginocchiare Una sola sedia C'è Dentro di me O mi ci siedo io O se ci siete lui Dovete decidere voi figli Sai che era Bella Quell'immagine Di Maria Ai piedi di Gesù Quanto mi piace A me essere Ai piedi di Gesù Che è seduto No Io sto alla porta E busso Se io No 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 Tu entri Tu sei il padrone Di casa Noi siamo il tempio Dello Spirito Santo Bisogna che egli Cresca E che io Diminuisca Per alcuni È il contrario Si usa Gesù Per Pastore Mestore Io sono profeta Profeta La cioccolata Io sono profeta Profeta Quando qualcuno Si presenta E vi dice Che prima del nome C'è un titolo Ragazzi Tenetelo lontano Chiunque questo sia Perché se voi guardate Tutti Paolo Pietro Giacomo Giovanni Leggete Si presentavano Come servi Chiamati Nella funzione Ma come servo Se tu dentro di te Non mantieni Un atteggiamento Di servitore Di miracolato Come diceva Più andavo avanti Nell'unzione L'apostolo Papo Più si sentiva L'ultimo degli apostoli E il primo dei peccatori Ma grazie Mi è stata data L'unzione L'unzione Nella nostra vita È quella Come Ripeto Un continuo No Come Gesù Non dubitava Del padre Mai dubitava Del padre Infatti Colui Che Dio Ha mandato Sempre Giovanni 3.34 Colui Che Dio Ha mandato Proferisce Le parole Di Dio Perché Dio Non gli dà Lo spirito Con misura Perché senza misura Perché lui Era totalmente Arreso E non può diventare Solo un canto A proposito di arresa Quello che abbiamo Cantato prima Che è vero Ma deve essere Una dichiarazione Autentica di arresa E questa sera Lì dobbiamo arrivare Io voglio Concludere subito Perché Perché Quando Vorrei che Vi concentraste Un attimo Perché io Fra poco Vado via E desidero Che mi arrivino Buone notizie Da parte vostra Perché Se arriva Una buona notizia Da parte vostra Significa Che questo territorio Realmente Sarà presidiato E non possiamo Aspettare Non lo so Che 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 Avete Di risveglio Che Come un temporale Ci sarà Un risveglio C'è odore Di acqua Che significa Il risveglio Se dentro di te Tu non comprendi Che significa L'unzione Aspetta Pietrino Ti do io il segnale Stai lì Stai lì Stai lì Ora Quanto Quanto Di me Ha Dio Fatti sta domanda Quanto Di te Ha Dio Perché Gesù Gesù proprio Addirittura Se tu leggi Capitolo 5 8 8 Insomma Tutto Vangelo Di Giovanni Che è straordinario Capisce Io non faccio Niente di mio Ma anche L'8 Capitolo 8 Capitolo 5 Quello che il Padre Mi dice Io Odo Agisco Quanti di noi Sono arresi Fino al punto Di dire Signore Come L'Apostolo Paolo Nella sua No Progressione Nella transizione Disse Non più io Ma Cristo vive in me E la vita Che io vivo Ora nella carne Non la vivo più Per faremi i fatti miei Perché ormai I fatti miei Sono l'onore E il privilegio Di fare i fatti suoi E i fatti suoi Che la gente Venga salvata Che venga Ripeto Pasturata E che venga Inviata Ci siete? Ora Più muori A te stesso Più riceverai La misura Con cui tu Ti dai a Dio Quella Sarà riempita Se io Non mi svuoto Cioè Tutto quello Che può essere Messo in un contenitore È già pieno Si perde fuori E il Signore Non dà Se dentro di me Non c'è disponibilità Ora L'unzione È L'affermazione Della tua chiamata Qual è la mia chiamata? Qual è la mia chiamata? Ricorda la tua chiamata Oh Forse io perdo la mia chiamata Una pezzo Aspetta C'è un cane Ci sono i cani da tartufi Ora ci sono i cani da chiamata Avete visto la mia chiamata? L'avevo lasciata lì La mia chiamata Se la sono presa Qualcuno dice Sei Sei Ma chiamata Può essere Non mi chiama più Quando fu chiamato Samuele 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 Se è Dio Ti chiamerà E se io non lo sento Ti chiamerà E se io non lo sento Ti chiamerà Se tu non lo vuoi sentire Non ti chiamerà più Ma se tu lo vuoi sentire Ti chiamerà Stai tranquillo figlio L'unzione Allora Vuoi sapere Velocemente Cinque passi Sei passi Sette passi Per aumentare l'unzione Posso? La volete aumentare St'unzione? Riguardo che più è dato Più è ridomandato Ok Primo L'unzione è un atto sovrano di Dio Quindi tu non la puoi Neanche la tua statura Dice con la tua sollecitudine Non puoi Quindi primo È un atto sovrano di Dio Primo Ma è l'unico Secondo punto Morendo a te stesso Scrivi Morendo a me stesso Io sviluppo più unzione Sì o no? Perché non trovo Cioè Non c'hai interferenze Che avevi di prima E non ho tempo Non posso sviluppare Te li cito solamente L'accesso all'unzione È soprannaturale Quindi il naturale deve essere Mi seguite o no? Il naturale interferisce con il soprannaturale Per questo Gesù disse A Nicodemo Devi nascere di nuovo Sennò che lui si Quindi non puoi impartire un vivo Mi seguite? Devi morire Per questo Gesù disse Devi morire ogni giorno Non per una questione di omicidio Per vedere il tuo sangue Spargersi No è una questione proprio Di resistenza Che ancora dentro di te Si può opporre A qualcosa di meraviglioso Che Dio vuole sviluppare Attraverso di te Dentro di te Il potere viene sempre Da una morte Come è stato per Gesù Ok? Se non sono solo Predicazioni Parole vuote Ragazzi Belle parole Possono essere anche Ma quanto può durare? Ok? Terzo Arrendersi totalmente A Dio Mi seguite? Arrendersi Quindi Primo L'unzione È Dio che te la dà In maniera sovrana Seconda Morire a se stessi Terzo Arrendersi totalmente Arrendersi Signore Lavemi tutto Chiedo che Signore Non esagerare Però lascia di servire La misura In cui tu ti arrendi È la misura Della tua unzione Quarto La via dell'associazione Relazione divine Cerca di avere Relazione divine Cerca servi di Dio Cerca ambienti Cristiani Autentici Insomma Resta in una chiesa Tu sei il risultato A volte Dell'unzione Sotto la quale stai Che è un'unzione Che è stata data Per essere data Se tu vai a cercare Unzioni A destra e a sinistra Non mi piace Dammi un po' di tua Un po' di Le unzioni da Facebook Le unzioni da Youtube Un po' di Biancalana Un po' di Cati Un po' di Apostolo Lirio Un po' di Apostolo Enzo Solo su Mi gira Un po' di Chisto Un po' di Chisto Non capisci tu chi sei Il Signore ti dà Una paternità Che non sostituisce la sua Ma è vicariata dalla sua È come un'assistenza tangibile Di qualcosa che altrimenti Tu non potresti comprendere Quando la comprenderai Diventerai tu un padre per gli altri Mi state seguendo Noi figli Quinto Continui preghiere e digiuni Come aumentare l'unzione Luca 5,16 Ma Gesù si irriterava In luoghi solitari E pregava Ora Un giorno avvenne Che mentre egli insegnava Erano presenti Seduti dei farisei Dei dottori della legge Che erano venuti Da tutti i villaggi Dalla Galilea Della Giudea Gerusalemme E la potenza del Signore Era con lui Per compiere guarigioni Ma perché lui Si era già ritirato In luoghi solitari La tua unzione crescerà Mi state seguendo Il versetto 12 Di capitolo 6 Luca dice In quei giorni Egli andò sul monte A pregare E passò la notte Pregando Dio Ascoltami Io non prego Per l'unzione Ma io cerco La relazione Io non voglio L'unzione Ma attraverso La relazione Io ricevo L'unzione Quindi io mi concentro Sulla relazione Mi seguite Versetto 18 E 19 Dice Che quelle che erano Venuti con lui Hanno ricevuto No? Per toccarlo Cercavano di toccarlo Settimo e ultimo punto Atmosfera E ambiente Dio crea Prima l'ambiente Poi il prodotto Prima ha fatto il mare E poi c'è mesi visci Tu non puoi Ascoltami Trovare L'unzione Se non stai Nell'ambiente giusto Tranne che non c'è Prima l'ambiente Poi l'unzione Perché se non neanche La capirai Quando Un ambiente È unto Dalla presenza Di Dio E allora Se tu ti ricordi Anche Saul Profetizzò Perché si trovò In mezzo ai profeti Tu sei O sarai Quello che sei Rispetto a colui Al quale Lo Spirito Santo Ti connetterà E voi avete Una chiesa Voi avete Dei pastori Quello che dovete fare Con estrema sincerità Essere Onesti Con voi stessi Per questo Avete bisogno Di buone compagnie Perché le Brutte compagnie Vi svuotano Dell'unzione La drenano Dell'unzione Ora io Ho concluso So che avete Preso degli appunti Però fatevi Delle domande Figli Perché io Stasera voglio Fare un dono Alla Al pastore Maurizio A sua moglie Perché siamo qui Se fosse stato Da qualcun altro Avrei fatto La stessa identica cosa E se c'è qualcun altro Che frequenta Un'altra chiesa Ed è qui Perché vogliamo Stare in comunione Perché alla fine Lo Spirito Santo è uno Ricordatevelo Quello che conta In questo momento È sapere Nel vostro caso Se il Signore Ci ha chiamati qui Apostolo È perché il Signore Vuole sapere Su quanti può contare Qui Quando il Signore Ne chiamò Dice che ne chiamò Dodici Perché stessero con lui Poi ne chiamò Settanta Poi sapete che Nell'alto solai Erono 120 E sapete Come vanno le cose Bene Stasera avete preso Degli appunti Capite Io non so Quanti effettivamente Di voi Siete coscienti Che non dovete aspettare qualcuno Perché probabilmente Qualcuno sta aspettando te Che stai aspettando qualcuno E quel qualcuno In realtà Sì tu Ma io non so parlare No io sono Troppo grande di età Io non sono troppo piccolo di età In tutti questi Io non posso Io non sono Ci sono tutte risposte Nella Bibbia Per esempio A Geremia fu detto Non dire Che sono troppo giovane E come a Gedeone Fu detto Non dire Gedeone Perché tu sei un uomo Forte Coraggioso Che non significa Che sarà merito tuo L'unico merito Che tu avrai Sarà Renditi serenamente A me Lasciati guidare Lascia che io sia Veramente Il Signore della tua vita Non il Signore Della domenica Della tua vita Onestamente ragazzi Perché io Non lo so Quanti di voi State vivendo Questa vostra chiamata Come un peso Piuttosto che Come un onore E quanti di voi Sinceramente Desiderate che Questa unzione In voi Possa svilupparsi In cui Dire veramente Signore Io mi arrendo Su presenza la parola Mi seguite o no figlie E dire A pastore Maurizio O a pastore Zina O ai pastori In cui Voi Avete trovato casa Dire Conta su di me Non dobbiamo Conta su di me E' arrivato il momento Di fare cose serie Che non significa Assomigliare a qualcun altro Significa Eccoci qua Ci fermiamo qua Fino a quando lo Spirito Santo Non mi dirà cosa Dobbiamo fare E state tranquilli Che se siete sinceri Alla fine I 6 a 61 Come I Luca 4 La risposta è già data C'è la gente Che ha bisogno di noi Figli Risanare quelli Che hanno il cuore rotto Liberare gli oppressi Portare buone notizie In mezzo a un mondo Che sta scoppiando Di paura Date voi da mangiare Non fate calcoli L'unico calcolo Che dovete fare E ripeto Arrendervi Nella misura in cui Ognuno di noi Svuote il proprio contenitore Potrà esserne riempito Gesù disse Al capitolo 6 Di Giovanni Quando tutti Avevano delle aspettative Differenti Perché gli aveva dato Da mangiare il giorno prima Disse Io lo so perché Mi state cercando Brutta sta cosa Ragazzi Però la conoscete Giovanni 6 No? E rimane a un certo punto Quando lui disse la verità Disse la verità Per amore Non della verità O di se stesso Per difendere il cielo Per dare soluzioni Lui disse Io sono il pane della vita Ascolta Ma anche se oggi Tu smetti di crederci Anche se oggi Tu diventi buddista Anche se tu oggi Non lo so Fai quello che vuoi fare Sei tranquillo Che quello che scoprirai dopo E che Gesù era Veramente il vero pane Di questa vita E se tu l'hai preso Questo pane Fai come Pietro Quando Gesù disse Ve ne volete andare Anche voi E Pietro disse Ma dove andremo? Solo tu hai parole Di vita eterna E oggi abbiamo sentito Che siamo spinti Dall'eternità Il nostro destino È eterno figli Che sta avendo Una pausa naturale Ma è già iniziata La nostra eternità Questa parentesi Si chiuderà Nel momento in cui Il corpo sarà glorificato Non ci sarà manco più Sto corpo La domanda è Su quanti Lo Spirito Santo Stasera Di quelli che siete presenti Potrà contare Prendetevi Trenta secondi Per riflettere E poi Chi desidera Si alzerà in piedi Solo chi desidera Solo Ascoltatemi Non la fate a cuor leggero Perché lo Spirito Santo Mi prende sul serio Una volta io chiesi Al Signore Sai cosa? Signore costi Quel che costi Voglio fare la tua volontà E il Signore mi disse Bravo Mi autorizzi? Assolutamente sì E passai Due Degli anni peggiori Della mia vita In cui lui Mi Mi massacrò la carne Mi massacrò il carattere Nel senso buono Mi trattò Il miglior allenatore Che ho potuto avere Era Lui piangeva con me Quando mi vedeva piangere Ma sapeva che era quella La via Per cercare di attivare E rendermi Positivo A quella Richiesta che avevo fatto Signore voglio fare La tua volontà Tredici anni di galera Si fece Giuseppe Gesù è dovuto stare Trentatré anni Come uomo Ognuno di noi Ha un processo Da passare Non per guadagnarsi qualcosa Ma per demolire qualcosa Che ti impedisce di avere Tutto quello che lui Ha pronto per te Se tu sei fra questi Veramente Stasera Se tu vorrai dire Signora A me non mi importa Perché di questa esistenza Non ho che farmene O Signore Io voglio veramente Voglio Signore Voglio vivere Di quello che è lo Spirito Santo No, non voglio vivere Di misticismo Voglio veramente Centrare L'essenza Di questa mia esistenza Se tu sei fra questi Veramente Se tu dici Che questo non significa Perché Quando Davide fu un torre Tornò a fare il pastore Però aveva la coscienza Di essere stato un torre Al momento opportuno Il Signore L'avrebbe Maturato il re Se tu sei fra questi Che non vuoi Accontentarti Di questi viaggetti Che fai E manco tanto spesso In una chiesa Ma se tu vuoi essere chiesa E non frequentare Solamente una chiesa Ma se tu vuoi essere fra questi Veramente Stasera Alzati in piedi Figlio Alzati in piedi Affinché si sappia Lo Spirito Santo Fisicamente Possa vedere Su chi può contare Su quanti Effettivamente Dicendo Signore Manda me Isaia Se gli dice Chi manderò Chi andrà per noi Era vera Sta cosa Per 400 anni Fino a Giovanni Battista Ci fu silenzio Perché non ci fu Nessuno Perché Ezechiele Perché Osei Ha dovuto sposare Una prostituta Perché Geremia Ha dovuto Dormire Quaricato Perché qualcuno Ha dovuto Cucinarsi Anche qualcosa Di brutto Per mangiarla Perché Perché io Ho cercato Qualcuno Che riparasse La breccia Ma non l'ho trovato Qua dobbiamo sapere Dobbiamo dare un senso Non solo A ricevere E avere emozioni Dalla presenza Di Dio Che dà anche emozioni Ma dobbiamo sapere Quante emozioni Noi possiamo dare al cielo Quanti di noi Possiamo Fare sorridere il cielo E dire Signore In queste condizioni Nonostante le mie difficoltà Oh Signore Conta su di me Come tuo figlio Sulla terra Sì Il vaso è debole Il vaso è fragile Ma la potenza È la tua Signore E dica Il debole Sono forte Perché in te Veramente Posso ogni cosa Quanti vogliamo dire Spirito Santo Grazie Per il dono più grande Che tu potevi farmi Mi hai fatto figlio Mi stai dando l'onore E la dignità Di poterti portare E andare Signore dimmi tu Dove devo andare Dimmi tu Con chi devo parlare Dimmi tu Signore Perché il mio tempo È il tuo Signore In realtà Dimmi come gestire Il tempo Quanti lo volete Figlio Venite qui davanti Chi siete Sinceramente Che volete marcare Un prima E un dopo Che questa decisione Di stasera Sia una decisione Irreversibile Quanti di voi Volete dire Veramente Quella sera Quella sera La mia esistenza Ha preso La via Che doveva prendere Da quella sera Ho dato un senso Compiuto alla mia vita Venite ancora più avanti Venite più avanti Venite più avanti Appoggiatevi anche qua Questa Grazie a tutti Grazie a tutti